9 giugno 2023, 9 giugno 2024. Manca un anno esatto alle elezioni amministrative che verosimilmente saranno abbinate nello stesso weekend già fissato per la tornata elettorale delle elezioni europee. Un anno che chiamerà il voto la maggior parte della provincia di Pesaro Urbino, visto che ad eleggere il sindaco per il prossimo lustro saranno 39 comuni su 50. Una geografia amministrativa che cambierà molte figure di riferimento, visto che sono a scadenza di secondo mandato quasi tutti i comuni più popolosi. A cominciare dai comuni capoluogo. Dopo dieci anni terminerà infatti l'amministrazione di Matteo Riccia Pesaro e quella di Maurizio Gambini ad Urbino. Cambierà anche l'amministrazione della terza città delle Marche con massimo serie a fine ciclo. Termina anche il doppio mandato di Palmirucchielli non solo da sindaco ma di fatto da fondatore della città di Vallefoglia, così come finisce il doppio mandato di Cinzia Ferri nel limitrofo comune di Montelabate. Ai titoli di coda anche l'amministrazione di Francesca Paolucci a Tavuglia e quella di Domenico Pascuzzi a Gabice Mare. Si chiude anche il ciclo di Enrico Rossi a Cartoceto, di Massimo Ciccolini ad Urbagna e di Alberto Alessandria Cagli. Questo è il quadro che riguarda i comuni pesaresi sopra i 5.000 abitanti, quelli che, stando alle norme attuali, sarebbero esclusi dalla possibilità di un terzo mandato. Terzo mandato che oggi sarebbe percorribile per i sindaci attualmente in carica da nove anni e che saranno chiamati al voto a Gradara, Cantiano, Apecchio, Belforte e Lisauro, Lunano, Mercatello sul Metauro, Monte Cerignone, Petriano, Monteporzio, Monte Calvo in Foglia, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio e Pietrarubbia. Idem per Daniele Grossi nel comune di Recente Unione, Sasso Corvara Auditore. 11 comuni al voto in cui il sindaco in carica terminerà il primo mandato, ovvero Acqualagna, Frontone, Monte Felcino, Mombaroccio, Monte Grimano Terme, Peglio, Pergola, Piendimeleto, San Costanzo, Piobbico e Sant'Ippolito. Tre invece i comuni al voto in cui il sindaco in carica è al termine del terzo mandato, ovvero Fratterosa, Borgo Pace e Macerata Feltria.